Romina Pover, stoccata ad Albano Post criptico su Instagram Romina Pover sta vivendo delle ore davvero difficili Un grande dolore attraversa la sua vita È una stoccata ad Albano Carrisi Romina Pover sta vivendo dei momenti davvero molto difficili in quanto la cantante purtroppo è stata colta da un momento di malinconia dopo aver ritrovato una foto che per lei significa davvero moltissimo Di che cosa si tratta? Ecco l'immagine che la cantante, ex moglie di Albano ha postato sui propri social network e che ha letteralmente fatto impazzire i web che si è stretto attorno al suo grande dolore L'artista ha infatti rivelato quello che sembra essere davvero un grande rimpianto che, necessariamente, ha a che fare con tutta la sua vita e che ha grandi legami con il suo passato Insomma, dimenticare da questo punto di vista è davvero impossibile Romina Pover, un grande dolore C'era qualcuno che mi amava? Nell'immagine che Romina Pover ha postato sui social network e che è subito diventata virale si vede il padre della donna, Tirone Pover in una vecchia foto in bianco e nero in cui si mostra il tutto il suo splendore Ogni qualvolta l'artista di origini statunitensi rivede quell'immagine si ricorda, con un pizzico di malinconia per il passato che c'è stato qualcuno che l'ha amata davvero Insomma, in molti ci hanno letto una stoccata al suo ex marito Albano Carrisi Reo secondo chiaramente questa interpretazione di non averla mai amata davvero o comunque non in quel modo Non sappiamo ovviamente se questa sia la chiave di lettura corretta da dare a questa frase anche perché il loro è stato un amore stupendo da favola che ha fatto sognare tantissime generazioni Grazie a tutti